400 miliardi di dollari per favorire la ripresa dell'economia americana e compensare l'impatto di un eventuale peggioramento della crisi del debito della zona euro. E quanto deciderà probabilmente oggi la Federal Reserve il numero uno. Ben Bernanke sembra orientato a lasciare invariati i tassi di interesse e l'intento della riunione che si concluderà oggi è volto soprattutto a stimolare lo sviluppo anche per ridurre l'occupazione.